Benvenuti nel mondo di Fineco X. In questo tutorial ti insegnerò a ricercare un titolo e a inserire un ordine direttamente dal Global Search. Iniziamo? Per trovare un titolo, usiamo la ricerca globale cliccando sulla lente di ingrandimento e digitando il ticker o il nome, ad esempio Nvidia. Una volta trovato il titolo, clicchiamo su di esso per aprire la scheda dettagliata. Qui trovi tutte le informazioni importanti, come il prezzo attuale e il suo andamento grazie al grafico della performance, il miglior prezzo di vendita e di acquisto in tempo reale, infine le ultime notizie. Cliccando sul prezzo in denaro potrai inserire immediatamente un ordine di vendita. Se clicchi sulla lettera invece, potrai inserire un ordine di acquisto inserendo le quantità e scegliendo il tipo di prezzo. Ti ringraziamo per aver scelto Fineco.